Io ho intitolato, come dicevo, Galileo sconosciuto, non perché sia sconosciuto il personaggio, quanto perché intendo parlarvi di cose un po' più, come dire, marginali, diciamo, non le cose più già note probabilmente a tutti. Visto che questa conferenza era stata organizzata per la giornata internazionale della matematica, che era appunto il 14 marzo scorso, io ho iniziato con una citazione famosissima, che probabilmente tutti quanti già conoscerete o avrete visto, che è questa. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non lo si può intendere se prima non si impara a intender la lingua a conoscere i caratteri nei quali è scritto, egli è scritto in lingua matematica, eccetera, eccetera. Una frase celebre tratta dal saggiatore che si adattava perfettamente all'idea appunto che la matematica è lo strumento attraverso il quale noi possiamo conoscere il mondo. A dire la verità, questa idea non è proprio nuovissima, non è che l'ha inventata Galileo. Nell'antichità è precisamente un matematico arabo, Ibn Khaldun, scriveva 200 anni prima di Galileo. La geometria illumina l'intelletto e pone la mente dell'uomo nel modo giusto. Così la mente che si applica alla geometria è difficilmente prona all'errore. In questo modo conveniente la persona che conosce la geometria acquista intelligenza. Ecco, insomma, anche questa è l'idea che il pensiero matematico e geometrico sia la base della conoscenza del mondo. Ma veniamo un po' al nostro argomento fondamentale. Che domande essenziali ci poniamo quando parliamo di Galileo? Allora, perché Galileo Galilei è il simbolo della scienza moderna? Quali furono le sue scoperte? Perché subì un astioso accanimento giudiziario? Perché ancora oggi viene osteggiato? E infine, chi fu in realtà il signor Galileo Galilei? Bene, se noi volessimo rispondere a queste domande dovremmo darci appuntamento ogni martedì per i prossimi sei mesi e forse qualche cosa potremmo approfondire. Perciò capite che l'argomento è vastissimo. Tra l'altro su Galileo è stato scritto già un'infinità di cose. Si valuta che siano circa 5.000 le pubblicazioni su Galileo Galilei. Ma non solo le pubblicazioni scritte. Ci sono mille iniziative, anzi innumerevoli iniziative su YouTube, conferenze per ragazzi, iniziative scolastiche. Addirittura c'è stato un musical che si chiamava Galileo. Addirittura spettacoli. Per esempio Marco Paolini ha fatto uno spettacolo, un monologo di due ore parlando di Galileo. Bene, io vi propongo invece di vedere qualche aspetto un po' più marginale per conoscere il personaggio anche Galileo. In quanto spesso questi grandi del passato sono un po' mitizzati e la personalità dell'individuo resta un po' in ombra. Noi vedremo di conoscere un po' di più. Allora, per trovare qualche risposta immaginiamo tutti insieme di compiere un viaggio a Firenze. dove la meta è la tomba di Galileo Galilei nella Basilica di Santa Croce, che ancora oggi, volendo, si può visitare. Allora, immaginiamo di fare questo viaggio insieme. Bene. Se da Bologna passiamo con l'autostrada agli Appennini, ci troviamo, superato il culmine della catena montuosa, e ci troviamo davanti lo spettacolo di Firenze, che è sempre uno spettacolo molto, diciamo, suggestivo. Questa bella città adagiata sulla pianura toscana, si vede subito, svetta, diciamo, la cupola del Brunelleschi, il campanile di Giotto, la torre di Palazzo Vecchio, e se c'è anche in collegamento il mio amico Angelo Valente da Firenze, probabilmente riconoscerà anche tanti altri dettagli. Comunque, la nostra meta è la Basilica di Santa Croce, eccola qua, che è circondata dalle case. Ci avviciniamo alla nostra meta, ed eccoci qua sulla piazza, come al solito animata da turisti, per dire la verità in questo periodo turisti saranno ben pochi, ci avviciniamo ulteriormente e vediamo questa magnifica facciata. Qui a sinistra c'è un'enorme statua di Dante, e la facciata è naturalmente un'opera d'arte straordinaria. Tra l'altro, l'ho scritto anche qui sotto, Stendhal, lo scrittore Stendhal, nel suo viaggio in Italia, ebbe davanti a questa visione un mancamento. Ecco, lui dice, uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore. La vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere. Questa sindrome, che da allora è stata chiamata sindrome di Stendhal, classifica proprio queste situazioni di turbamento psicologico davanti alle opere d'arte. Ma noi non ci facciamo turbare più di tanto, e vediamo questa vista aerea, in cui si capisce molto bene che la Basilica di Santa Croce fa parte di un monastero. Ecco, vedete qua i chiostri interni. Bene, io vi faccio notare questo particolare. La Torre del Campanile, che sto indicando adesso con il mouse, spero che la vediate tutti quanti. Questa torre è importante nella nostra storia, perché fra un momento vedrete che ha a che fare con le vicende di Galileo. Ma lo vediamo fra un momento. Allora, un tempo, chi visitava la Basilica, entrava dalla porta principale. Adesso non più, adesso si entra dal lato pagando il biglietto, mentre una volta era gratis. Comunque, immaginiamo di entrare nella Basilica e ci si presenta questo spettacolo. Una Basilica, tre navate. Sulla destra e sulla sinistra ci sono in ordine tutte le tombe dei grandi italiani. La nostra meta, cioè la tomba di Galileo, è sulla sinistra e la tomba di Michelangelo Bonarroti, è dall'altro lato. Ma ci sono anche tombe sul pavimento, ci sono delle lastre, delle piastre, che coprono i resti di altri personaggi celebri. Appena entrati, si trova questa piastra. Andiamo a leggere che questo signore qui si chiama Galileus de Galileis ed è un antenato di Galileo Galilei. È un antenato di due secoli prima, però, attenzione. Quindi appartiene sì alla famiglia di Galileo Galilei, ma è abbastanza indietro nel tempo. A quell'epoca i Galilei erano una famiglia nota, importante, a Firenze. Poi in realtà erano decaduti al tempo di Galileo, erano una famiglia quasi anonima. Bene, le nostre tombe che andiamo a visitare sono queste. A sinistra c'è la tomba di Galileo, a destra quella di Michelangelo. Allora, le due sono controposte proprio una di fronte all'altra e se voi guardate la struttura è molto simile. c'è l'urna principale con delle statue. A destra, se voi guardate, osservate, ci sono tre statue che rappresentano rispettivamente la pittura, la scultura e l'architettura, le tre arti del Michelangelo. Quella di Galileo, invece, ci avviciniamo ancora un po', eccola qua, la vediamo bene, ha due statue laterali, una rappresenta l'astronomia e l'altra, qui a destra, rappresenta la geometria. Avrebbe dovuto esserci una statua al centro che avrebbe dovuto rappresentare la filosofia, ma la Chiesa non l'ha consentito, non hanno dato il permesso di costruire una statua che rappresentasse la filosofia. Quindi sono rimaste solo due. Al centro c'è il busto di Galileo. Ci avviciniamo e andiamo a leggere la targa che sta qui sotto. Eccola qua. Questa targa la leggiamo perché ha degli aspetti interessanti. Allora, intanto dice Galileus Galileus Patricius Florentinus. Ora, Patricius Florentinus già qui ci lascia un po' perplessi, perché Galileo è nato a Pisa, come mai Patricius Florentinus. In realtà i suoi antenati erano fiorentini e lui ci teneva molto a essere chiamato nobiluomo fiorentino. Questa idea di appartenere alla nobiltà fiorentina è proprio stato un suo chiodo fisso per tutta la vita. Infatti in tutte le opere c'è scritto sotto il suo nome Patricius Florentinus. Poi andiamo avanti, c'è scritto Geometrie, Astronomie, Filosofie, Maximus Restitutor, Nullietatis Sue, Comparandus, Ic Bene Quescat. Quindi, diciamo, il massimo innovatore della geometria, astronomia e filosofia, nessuno uguale a lui nel suo tempo, ecco qui riposa. Vedete? Geometria, Astronomia e Filosofia. Ma la filosofia è stata cancellata, cioè, voglio dire, la statua. Poi andiamo a vedere Vixit, anni, allora questo è 5 e 2, 50, 70, 5, 8, 78. Visse 78 anni, quindi morì all'età di 78 anni. Hobbit, quindi morì nell'anno, questo simbolo vuol dire mille, questo vuol dire cento, cioè vuol dire cinquecento, quindi mille cinquecento, seicento, dieci, venti, trenta, quarantuno, mille seicento, quarantuno. Qui c'è un errore, perché in realtà la data giusta è 1642, tuttavia a quel tempo, insomma, era un errore dovuto un po' a, diciamo, un disguido sul computo delle date. Andiamo avanti ancora e vediamo qua, infine, Monumentum a Vincenzo Vivianio, Magistri Cineri, Simicue, Simul, eccetera. Vuol dire che è un monumento anche a Vincenzo Viviani, un monumento di Vincenzo Viviani al maestro, cioè al Galileo. In altre parole, Vincenzo Viviani è il discepolo che ha fatto costruire questo monumento e è sepolto anche lui, anche le sue ceneri, quindi anche lui è sepolto qui dentro. Va bene? E poi andiamo alla fine, che è la cosa più, che può stupire un po' di tutto, la fine, c'è la data, anno, allora, 1500, 1700, 1700, 10, 20, 30, 7, 1737. Come? È morto nel 1642 e qui c'è una data del 1737. Eh già, perché qui il punto è che quando morì Galileo non fu sepolto qui dentro, ma da un'altra parte, e adesso lo vedremo. Bene, qui dobbiamo usare un po' la nostra fantasia e fare un salto indietro nel tempo. È giovedì, 12 marzo 1737, ore 18, siamo all'imbrunire. Galileo è morto già da 95 anni e nessuno quindi dei presenti lo ha conosciuto di persona. Anche il suo devoto discepolo Vincenzo Viviani è deceduto ormai da 34 anni, senza aver veduto per intero, senza aver veduto per il suo monumento, da lui voluto e pagato, tra l'altro, le sue spese. Bene, cosa successe in quella memorabile serata? Ecco, dovete qui un po' immaginare diciamo la scena, perché la basilica è gremita di gente, le luci tremolanti delle candele si rifrangono sulle vetrate, il coro intona i canti delle celebrazioni funebri, sono presenti tutte le autorità, escluso il gran duca che non ha voluto compromettersi. Un piccolo gruppo di persone, ecco qua, dovrà, tra cui un notaio che dovrà tenere diciamo il registro di tutto, si accinge al trasferimento dei resti di Galileo nel sepolcro monumentale. Quindi qui io ho messo questa immagine abbastanza diciamo suggestiva per aiutare un po' la fantasia a pensare a questa scena diciamo che in quella serata si stava svolgendo. Immaginate che su questi vetri colorati e sugli affreschi di Giotto si rifrangono, si riflettono le luci tremolanti, insomma doveva essere una scena molto suggestiva. Bene, questo gruppo di persone che vi ho detto doveva attraversare, cioè passare da questa porticina che si vede qua, passando sotto, perdoni, gli affreschi di Giotto percorrere questo corridoio per giungere alla base di quella torre campanaria che vi avevo fatto notare all'inizio quando si vedeva la vista della basilica. Ecco, infatti sotto questo campanile c'era una nicchia, questa statua non c'era, era solamente una semplice parete di mattoni con una scritta e basta e lì dentro erano sepolti sia Galileo Galilei che Vincenzo Viviani. Eccola qua, la nicchia della sepoltura originaria del 1642 è sigillata da una sottile parete di mattoni, una tramezza diremmo oggi. Il busto che si vede è arrivato poi negli anni successivi. Allora, ci si attende di trovare la bara di Vincenzo Viviani e quella di Galileo Galilei. Ma qui arriva un colpo di scena. Perché? Perché abbattuta la parete si trovano tre bare, non due, tre. Sulla prima c'è una targa di piombo che riporta il nome Vincenzo Viviani. Dunque, qui non ci sono dubbi. Ma le altre due non ci sono iscrizioni, non c'è targa, non c'è nulla. Quindi c'è un momento di panico perché chiaramente c'è dubbio e si chiedono ma sarà Galileo Galilei questo qua? E allora viene chiamato il professore di anatomia che risolve l'enigma perché esaminati gli scheletri dei due dei resti delle due tombe delle due bare si riconoscono i resti di un uomo vecchio che è Galileo e di una donna giovane. Chi è questa donna? La donna è la figlia di Galileo. L'amatissima e dolce suor Maria Celeste è morta poco prima di lui nel vicino convento di clausura di San Matteo. Quindi tutti questi resti vengono traslati nel monumento perciò nel monumento stanno tre persone diciamo così Galileo Galilei Vincenzo Viviani e la suor Maria Celeste suor Maria Celeste ha fatto una vita nel convento di clausura quindi è sempre vissuta nell'ombra diciamo nascosta al mondo e ancora oggi rimane rimane nascosta al mondo solo noi che lo sappiamo adesso possiamo diciamo andare col pensiero anche a questa ragazza dolcissima e però il suo nome non compare. Bene c'era un uso un uso a quel tempo di prelevare qualche reperto da qualche reliquia dai corpi dei personaggi celebri e quindi si provvede a prelevare due vertebre e il dito medio della mano destra questo dito medio eccolo qua c'è ancora è un macarbo reperto che viene sempre esposto nelle mostre su Galileo e chissà perché attira sempre un sacco di gente che vanno a vedere i resti del dito di Galileo viene applicata infine una targa a ricordo diciamo di questo evento di questa serata e tutto quanto si conclude così bene siamo partiti dalla fine della biografia la fine dei conti siamo partiti diciamo dai cadaveri di Galileo e adesso facciamo un po' di ordine e riprendiamo la storia di Galileo dall'inizio ci sono quattro città Pisa Firenze Padova Roma queste quattro città segnano la vita di Galileo Pisa perché è la città in cui lui nacque nel 15 febbraio 1564 Firenze è la città più amata e vi morirà nel 1642 a 78 anni Padova è la città in cui ha vissuto i 18 migliori anni della sua vita e Roma vabbè Roma è la città in cui ci fu il processo la condanna insomma dove si svolse tutta la sua vicenda diciamo così giudiziaria bene Pisa nel 1500 era un paesotto 20.000 abitanti 20.000 abitanti era una città un po' in decadenza perché aveva avuto un momento di splendore un paio di secoli prima in quanto era diventata la capitale finanziaria una delle capitali finanziarie diciamo dell'Europa poi dopo è andata un po' in rovina ma insomma comunque è sempre una città piena di storia Galileo nasce lì e trascorre i primi anni in questa città cosa studia? Studia la musica perché il papà era un musicista e teorico della musica tanto è vero che diventerà un valente liutista studia la letteratura e si innamura dell'Ariosto che leggerà per tutta la vita e sarà il suo autore preferito legge studia perdon grammatica e dialettica quindi conosce molto bene il latino e soprattutto matematica questa è la sua materia preferita il papà la voleva indirizzarlo agli studi di medicina ma purtroppo lui iniziò agli studi di medicina ma mollò subito cioè mollò presto perché non era insomma il suo campo e si dedicò alla matematica il primo incarico di lettore di matematica lo ottenne all'università di Pisa all'età di 25 anni con un contratto triannale ecco questa che vedete è l'università di Pisa lo stipendio era di 100 scudi anno circa 6.000 euro di oggi tenete conto che un professore di medicina guadagnava ben 2.000 scudi cioè 120.000 euro l'anno capite perché il papà di Galileo avrebbe preferito gli studi di medicina insomma gli stipendi erano ben diversi perché a quel tempo la matematica non era considerata una materia importante era considerata una cosa da curiosi da appassionati interessava chi faceva gli oroscopi chi faceva i giochi matematici insomma era considerata una materia minore quindi anche i professori erano pagati poco nel periodo pisano Galileo si fa notare per molte innovazioni come ad esempio la scoperta dell'isocronismo del pendolo cioè il pendolo oscilla con un periodo che non dipende dalla massa appesa ma dipende solo dalla lunghezza del filo con cui è sospeso e scoprì anche l'accelerazione costante dei gravi ecco qui c'è una specie tra storia e leggenda il fatto che Galileo abbia fatto cadere dalla torre di Pisa due palle di peso diverso per dimostrare che arrivavano a suolo allo stesso momento non si sa se questa cosa è vera o non è vera ma comunque è rilevante un'altra cosa per cui si fece notare Galileo era la sua la sua vis polemica cioè lui era un diciamo gli piaceva fare del sarcasmo e in particolare se la prese scrisse anzi un po' un piccolo poemetto in versi contro il portare la toga a quel tempo infatti i professori dell'università vestivano la toga durante le loro lezioni oggi la toga si veste solo nelle aule giudiziarie ma a quel tempo invece non era così solo che questa era diventata poi una moda e queste toghe diventavano sempre più preziose sempre più ricercate con tessuti di grande valore erano diventate una specie di simbolo di distinzione e venivano indossate anche fuori dall'università anche per strada allora Galileo se la prende con questa moda e scrive un poemetto di cui leggiamo rapidamente l'ultima parte l'ultima parte dice guarda quei fiaschi innanzi che tu bea quel che v'è dentro io dico quel vin rosso che fa vergogna al greco e alla verdea tu gli vedrai che non han tanto indosso che il ferravecchio ne dessi un quattrino mostran la carne nuda in sino all'osso cioè fiaschi malmessi diciamo in cui senza paglia o con poca paglia ma con un vino molto buono e poi sono pieni di sì eccellente vino che miracol non è se le brigate dan del glorioso e del divino gli altri che hanno quella veste se tu gli tasti o sono pieni di vento o di belletti o d'acque profumate o sono fiascacci da pisciarvi dentro ecco era un sarcasmo contro queste mode diciamo di professori altezzosi che volevano distinguersi 1592 Galileo a 28 anni quindi finito il suo contratto dei tre anni si cerca aspirava a un incarico un po' più remunerativo dei 6.000 euro e concorse alla cattedra di matematica di Bologna ma non fu assunto io credo che ancora oggi ogni settimana si raduni il rettorato della Università di Bologna per darsi delle martellate sulle dita per aver perso questa grande occasione insomma non assunsero Galileo ma assunsero un'altra persona apparentemente più qualificata comunque grazie a importanti e raccomandazioni invece venne nominato quindi trovò il suo incarico a Padova ecco qua siamo a Padova questa bella veduta ci mostra la bellissima piazza il prato delle erbe la piazza elissoidale la basilica del santo inconfondibile eccolo qua e a Padova è ancora conservata la cattedra di Galileo ecco questo è il pulpito su cui saliva Galileo per quando teneva le lezioni a Padova bene lui scrisse a Padova i 18 migliori anni della mia vita in effetti dai 28 ai 46 anni quindi il fiore diciamo così degli anni qui conobbe molte personalità tra cui Paolo Sarpi il cardinale Bellarmino Tommaso Campanella Giordano Bruno e tanti altri anche tanti amici sinceri come Gianfrancesco Sagredo che poi verrà immortalato nei dialoghi e soprattutto conobbe la sua compagna Marina Gamba che gli darà tre figli due femmine e un maschio ma Galileo non si sposò mai quindi per l'epoca erano figli diremmo illegittimi anche se poi furono riconosciuti da Galileo tuttavia nei registri parrocchiali è scritto allora per un figlio è scritto padre ignoto e nell'altro c'è scritto figlio figlio no frutto defornicazione bene le due figlie Virginia e Livia finirono in convento di clausura a 13 anni quindi le ha sistemate lì il figlio invece Vincenzo studiò si laureò in giurisprudenza ebbe anche una pensione ecclesiastica ma fu sempre in difficoltà economica ci sono tante lettere di questo Vincenzo che chiede soldi al padre allora il copista Silvestro Pagnoni assunto da Galileo per la stesura delle sue dispense scrive all'inquisitore locale dunque dobbiamo sapere che Galileo teneva anche lezioni private e venivano studenti un po' da tutto il mondo e naturalmente le dispense non potevano essere fotocopiate le fotocopie si chiamavano copisti quindi questi qua a mano riscrivevano il testo delle dispense uno di questi copisti Silvestro Pagnoni un pompetegolo diciamo un impiccione sobillato anche dalla madre di Galileo che le aveva incaricato di sorvegliare e riferire manda questa lettera all'inquisitore locale e dice ho ben inteso da sua madre che lui mai si confessa et si comunica la qual me lo faceva delle volte osservar le feste si andava alla messa in cambio di andare alla messa andava da quella sua putana marina veneziana sta al canton de Ponte Corbo ecco questa era una soffiata fra le tante maldicenza diciamo così che arrivavano agli inquisitori locali allora io ho preso a prestito questa diciamo queste parole della canzone di Vasco Rossi una vita spericolata perché secondo me rende bene diciamo il tenore della vita di Galileo Galilei nell'epoca in cui si trovava a Padova quindi una vita fatta di polemiche di battiti grandi bevute pranzi esagerati avventure amorose di ogni genere problemi economici costanti le sue spese sono il doppio dello stipendio da professore e quindi insegna privatamente a studenti da tutto il mondo ospiti paganti a casa sua e già perché lui ospitava allora dobbiamo sapere che chiaramente Galileo era già un personaggio di grande fama in tutta Europa in tutta Europa e quindi arrivavano studenti dalla Polonia dalla Germania dall'Olanda dalla Francia dall'Austria anche il Gran Duca d'Austria è andato lì a studiare e lui doveva ospitare questi signori con i loro servi addirittura non so se era il Gran Duca d'Austria ma comunque uno arriva con cinque servi al seguito quindi immaginate e poi c'erano anche gli animali o l'asino i cavalli insomma quindi era un business lui aveva sostanzialmente un'azienda da questo punto di vista e che gli consentiva di guadagnare un secondo stipendio e anche sostenere tutte queste enormi spese vi racconto un aneddoto un aneddoto particolare a costozza di Longare che si trova fra Padova e Vicenza in provincia di Vicenza comunque Galileo fu ospite nella villa di un gentiluomo insieme ad una combriccola di Gaudenti i suoi compagni di merende diremo oggi era un'estate caldissima e torrida e accade un fatto che lo segnerà per tutta la vita allora dobbiamo sapere che in queste zone visto che c'è una pianura bassa d'estate c'è un'afa molto soffocante queste ville hanno un piano diciamo così principale dove si svolgono le feste i pranzi eccetera e poi hanno delle grandi cantine come questa da bene che comunicano con dei cunicoli in caverne naturali dalle quali esce un'aria a temperatura costante tutto l'anno precisamente una temperatura di 10 gradi ora quest'aria veniva poi convogliata al piano di sopra e fungeva da aria condizionata da aria condizionata allora cosa è successo quella volta dopo una notte di bagordi Galileo ubriaco fradicio come i suoi compari cadde addormentato sulla bocca di entrata dell'aria gelida il mattino seguente un amico venne trovato morto un secondo perse l'udito da un orecchio Galileo la scampò ma soffrì fino alla fine dei suoi giorni di acuti e persistenti dolori articolari diffusi ecco quindi diciamo questi eccessi questi suoi eccessi gli hanno portato una discreta una discreta guaio 1609 l'anno del cannocchiale ecco questo del cannocchiale interessante dunque i cannocchiali già esistevano non era non è un'invenzione di Galileo già circolavano ed erano usati così come giocattoli diciamo per spiare nelle finestre dei vicini di casa praticamente Galileo cosa fa prende questo cannocchiale lo studia e capisce come funziona lo costruisce in proprio e i modelli che lui riesce a realizzare vanno da ingrandimenti da tre ingrandimenti il primo fino a 20 e anche l'ultimo fino a 30 ingrandimenti e la novità è quello di puntare il cannocchiale al cielo ecco a questo punto si svela una realtà completamente diversa da quella che era creduta da 1400 anni anzitutto i satelliti di Giove 1610 questa è una fotografia di un telescopio amatoriale ma si vede molto bene ed è pressa poco ecco quello che vedeva Galileo Galilei Giove e queste tre quattro pardon stelline che sono i satelliti di Giove ecco questo è il foglio in cui Galileo ha notato le sue osservazioni guardiamo qui dove muove il cursore che si vede bene allora c'è scritto D22 quindi è il giorno 22 di novembre alle due di notte lui vede il Giove con uno due tre stelline e segna anche la distanza in gradi tre gradi sei gradi quattro gradi alle ore sei ecco vede compare un quarto una quarta stellina il giorno 28 ne vede solo due il giorno 29 ne vede tre a questo punto capisce che queste non sono stelle ma queste sono pianeti che girano intorno a Giove non solo ma lo punta sulla luna e sulla luna vede delle cose che nessuno immaginava ci fossero questi sono i suoi disegni originali guardate anche la precisione vedete questi punti luminosi che io adesso qui sto mettendo in evidenza sono delle vette perché prendono la luce prima della parte in ombra quindi vuol dire che sono alte sono montagne molto alte così come sono valli queste insenature scure che prendono la luce più tardi non solo ma anche la via Lattea si manifesta come un'infinità di stelle insomma una cosa completamente diversa dall'universo che si immaginava fosse quello raccontato da Ptolomeo ecco qui sono messi a fianco a fianco a sinistra il disegno il disegno di Galileo e a destra una fotografia voi vedete quanti dettagli sono indicati su un disegno anche molto se volete diciamo grezzo ma pieno di particolari insomma quando uno sa disegnare si vede ecco questi questi ritrovamenti vengono pubblicati nel Siderios Nunzius vedete Galileo Galileo Patrizio Florentino ecco la sua fissazione Patrizio Florentino questi quattro planetis circa iobis quindi quattro pianeti intorno a Giove li chiama Medicia Siderea in onore della famiglia dei Medici Granduchi di Toscana presso i quali lui desiderava andare a lavorare se andiamo in fondo leggiamo che questa edizione è Venezis quindi Venezia 156 1610 ecco il grande annuncio questo questo alla stampa naturalmente va a Ruba che Plero riceve una copia e immediatamente scrive a Galileo pieno di complimenti ma Galileo non risponde nemmeno vabbè ora vediamo un po' un assaggio dei ragionamenti di Galileo perché finora ci siamo limitati un po' una descrizione così un po' romanzata allora l'esperimento è questo ed ha una importanza notevole perché verrà citato da Newton ecco perché dove sta l'importanza allora la questione è questa qui vedete abbiamo un piano inclinato su un tavolo va bene qui c'è una sferetta appoggiata la domanda è che relazione c'è fra l'altezza da cui parte la nostra sferetta e la distanza su questo piano orizzontale in cui la sferetta va a cadere in altre parole io faccio scendere la sferetta questa percorre tutto il piano poi lascia il tavolo e casca giù sul pavimento diciamo sul piano orizzontale qualcuno l'ha fatto l'ha ripetuto questo eccolo qua credo l'università di Pisa l'ha riprodotto tale quale Galileo ma torniamo al nostro al nostro disegno dunque Galileo già sapeva che la velocità a cui arrivava scendeva la sferetta era proporzionale alla radice dell'altezza cioè il rapporto fra due altezze era uguale al rapporto delle due velocità al quadrato in altre parole la velocità al quadrato diviso l'altezza era una costante questo Galileo già lo sapeva da precedenti esperienze Galileo sapeva anche che il tempo di caduta era lo stesso per qualsiasi velocità cioè una volta che la pallina lascia il piano e quindi viene giù in caduta libera diremmo così il tempo che impiega a scendere è costante perché dipende solo dall'altezza del tavolo quindi lui già sapeva che di di è la gittata cioè sarebbe lo spazio percorso sull'orizzontale diviso la velocità è costante sarebbe il tempo no a questo punto si poteva scrivere di uno su di due cioè due distanze diverse stanno come le velocità e allora a questo punto il legame immediato perché dato che le altezze sono legate al quadrato della velocità analogamente quindi avremo che il rapporto fra il quadrato di due di due gittate è uguale al rapporto fra le altezze in altre parole il legame fra altezza e gittata è parabolico bene ora vediamo il foglio originale questo è il foglio del 1608 se voi guardate il disegno notate che qui questo è il punto in cui la sferetta lascia diciamo il tavolo e casca giù seguendo delle traiettorie paraboliche ecco Galileo voleva verificare che queste traiettorie erano effettivamente parabole infatti cosa fa guardate bene se voi andate a leggere qui c'è scritto dove doveria 1330 ossia 10 infatti lui ha misurato 1340 ma doveva essere 1330 dai calcoli quindi c'è un errore di 10 e analogamente in tutti gli altri punti qui doveria cioè 1500 doveria essere 1960 quindi più 80 insomma il senso di questo commento qual è? il metodo sperimentale non è quello di eseguire gli esperimenti e vedere cosa succede no è prevedere quello che succede e poi verificare quindi Galileo già immaginava che le traiettorie fossero parabole quindi va a vedere se effettivamente lo sono con l'esperimento bene questo ragionamento che per noi è abbastanza diciamo così elementare era incomprensibile per i per gli diciamo gli studiosi del suo tempo perché perché la scienza antica era la scienza della perfezione quindi il ritrovare due numeri che non coincidevano il ritrovare come in questo caso 1340 anziché 1330 vuol dire per uno scienziato antico per uno studioso antico che queste cose non hanno senso che sono accidenti privi di significato ecco questo era il modo di pensare dell'antichità la perfezione assoluta oppure niente nel 1610 Galileo finalmente ritorna nella amata Firenze governata dai medici e viene nominato matematico e filosofo di corte ora stipendio mille ducati cioè 60 mila euro senza obbligo di insegnamento apparentemente è una bella sistemazione e invece è un errore fatale un errore fatale per due motivi primo per il carattere indomito e beffardo con gli avversari che gli farà compiere gravi errori e poi perché lascia la Repubblica di Venezia che aveva una era una Repubblica in grado di tenere una certa autonomia contro il lo Stato del Vaticano mentre viceversa il Granducato di Firenze era il finanziatore del Vaticano quindi erano legati molto strettamente e questo gli porterà dei guai ecco qua un bel ritratto dei Granducchi di Toscana a sinistra c'è Cristina di Lorena la mamma diciamo in primo piano Cosimo II il giovane De Medici che è stato educato anche da Galileo Galilei e a destra il fratello qui comincia la rotta di collisione si diffonde l'idea che la terra non sia immobile al centro dell'universo in contrasto con la Bibbia l'inquisizione riceve segnalazioni e denunce di eresia contro i galileisti si chiamavano così e inizia a muoversi nell'ombra ora l'eresia era il reato più grave un reato terribile perché veniva giudicato dai tribunali ecclesiastici e questi insomma avevano dei criteri di giudizio abbastanza diversi da quelli civili qui si scontrano due mondi il mondo antico che è perfetto armonico stabile ordinato ogni cosa ha la ragione di essere proprio così ecco quindi è una specie di come dire di ordine immutabile eterno invece il mondo moderno è imperfetto sperimentale instabile approssimato sempre in continuo movimento in continuo aggiornamento quindi io ho definito così in modo sintetico il mondo antico contempla la natura il mondo moderno invece la comprende e questo è un modo diverso ora in una famosa lettera a Benedetto Castelli Galileo chiarisce il rapporto fra scienza e sacre scritture ma le accuse si moltiplicano di giorno in giorno ora Galileo più o meno fa questo ragionamento e dice la natura l'ha creata Dio le sacre scritture sono scritte da Dio quindi non possono essere in contraddizione se sono in contraddizione vuol dire che noi non le sappiamo interpretare e qui arriva il busillis perché chi ha ragione ha ragione chi interpreta le scritture o ha ragione chi osserva la natura per Galileo la ragione sta la verità sta nell'osservazione della natura e le scritture se non coincidono vuol dire che non sono interpretate correttamente il dissidio era sostanzialmente la questione del sole cioè nelle sacre scritture compare in tanti passi il fatto che il sole si sposti e la terra si afferma mentre viceversa secondo Copernico e anche Galileo era esattamente il contrario in sostanza il conflitto è tra teologia e scienza ecco qui nasce proprio questo conflitto nasce al tempo di Galileo tra teologia che è il sapere assoluto universale perfetto e scienza che è il sapere sperimentale modificabile continuamente diciamo in movimento il primato della chiesa quindi cominciava a venir messo in discussione ordini importanti come gesuiti e domenicani si sentivano scavalcati dalle argomentazioni teologiche del laico e moralmente discutibile Galileo toscanaccio arrogante rude iracondo ma sincero cattolico e soprattutto il più intelligente di tutti allora 1616 arriva il primo guaio serio Galileo viene convocato dal cardinale Bellarmino allora bisogna dire chi è cardinale Bellarmino e questo è un personaggio importantissimo diciamo che è il cardinale più importante della chiesa cattolica il teologo assoluto quello cui tutti fanno riferimento il difensore della cattolicità tra l'altro santo Galileo viene convocato allora viene convocato non vuol dire che Bellarmino telefona Galileo e dice senta Galileo può passare da me questo pomeriggio no convocato vuol dire che si presentano alla residenza di Galileo due guardie armate con munite di catene e manette per accompagnarlo a visitare il cardinale Bellarmino bene questo avviene quindi l'incontro avviene e il cardinale Bellarmino ammonisce Galileo a non diffondere la teoria copernicana allora ammonire non è dargli una pacca sulle spalle e dire guarda Galileo stai attento non dire più queste cose queste bagianate che è la terra al centro del mondo e il sole non gira ammonire è un atto legale per fare un'ammunizione ci vuole un verbale un notaio due testimoni e tutte le firme ecco in realtà con Bellarmino che conosceva già Galileo Bellarmino era una persona colta appassionato di astronomia in realtà questa munizione non viene non viene espletata con tutti i canoni e si limita a un amichevole ammonimento quindi gli dice non diffondere la teoria copernicana quindi l'opera di Copernico viene messa all'indice proibita la stampa e dato ordine di bruciare ogni coppia passano 16 anni e naturalmente nel frattempo le varie le critiche verso Galileo aumentano finché nel 1632 arriva un nuovo papa urbano ottavo al secolo Maffeo Barberini questo è un uomo colto amante delle scienze amico personale di Galileo quante volte Galileo ha passeggiato con il papa nei giardini vaticani discutendo di filosofia e di scienza quindi sembra aprirsi la strada verso la risoluzione di tutte le controversie ma in realtà la tempesta si sta caricando ed esploderà di lì a poco qui dobbiamo un attimo inquadrare la storia per capire come mai succede questo pasticcio allora la chiesa cattolica si trova in un mare di guai tanto per cominciare era in corso la guerra dei trent'anni con massacri e crudeltà ovunque questa guerra ha devastato l'Europa l'Italia è stata risparmiata ma tutta l'Europa è stata spazzata da massacri veramente diciamo così terribili poi bruciava ancora lo scisma di Lutero quindi la divisione della cristianità in due protestanti cattolici e poi le spese militari e le opere artistiche monumentali volute dal papa prosciugavano il bilancio vaticano qui vedete il famoso baldacchino di San Pietro con queste colonne a torciglione del Bernini che saranno costate chissà quanto insomma il papa era abbastanza in crisi da questo punto di vista nel popolo che era gravato continuamente da tasse e imposte di ogni genere era arrivato circolava il famoso detto quel che non hanno fatto i barbari l'hanno fatto i barberini bene nel 32 esce il famoso dialogo sui due massimi sistemi questa è l'opera diciamo emblematica di Galileo è quella più importante da un punto di vista diciamo così del pensiero in generale in quattro giornate tre personaggi che sono il nobile segredo lo scienziato salviati e il tradizionalista Simplicio discutono di geometria matematica astronomia l'aristotelico Simplicio ci fa una magra figura il papa si riconosce nella figura di Simplicio e la prende molto molto male anche i gesuiti domenicani si sentono attaccati il libro viene bloccato e proibito giusto per darvi un'idea di che genere di argomentazioni stanno nel dialogo allora casca l'argomento sulla perfezione e Sagredo chiede a Simplicio ma secondo te qual è la forma geometrica perfetta e lui risponde naturalmente è il cerchio nel piano e la sfera nello spazio perché perché è simmetrica da tutte le parti dunque è la figura perfetta al che Galileo cioè in realtà Salviati gli dice ma scusa se io dovessi costruire un muro con dei mattoni fatti a sfera non sarebbe una grande perfezione perché cascherebbero uno sull'altro quindi la perfezione per un mattone è il parallelepipedo non è la sfera in altre parole non esiste la perfezione astratta la perfezione è quella dell'oggetto più adatto al compito a cui è destinato ecco questo è per esempio un estratto se noi guardiamo un attimo questo titolo dialogo di Galileo Galilei linceo matematico eccetera eccetera dedicato al granduca di Toscana dialogo dei massimi sistemi c'è scritto dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano in Fiorenza 1632 ecco qua lo stampatore è Battista Landini anche lui farà una brutta fine proprio perché ha stampato questa cosa qua nel 1633 quindi l'anno successivo Galileo viene convocato a Roma e sotto minaccia delle catene in caso di rifiuto quindi lui parte dalla Toscana parte e si dirige verso lo Stato del Vaticano purtroppo c'è un'epidemia di peste in corso anche al tempo c'erano questi problemi quindi deve fermarsi al valico di confine in quarantena in attesa di superare il confine e questa quarantena la passa in una lercia locanda presso acqua pendente lui scrive è stata una grande sofferenza perché per due settimane ho mangiato solo uova 1633 processo condanna e a Biura all'età di 70 anni di fronte al tribunale dell'inquisizione Galileo pronuncia la Biura inginocchiato e con la sola veste penitenziale addosso il mondo cristiano resta allibito mortificato impaurito Cartesio dà alle fiamme il manoscritto di una sua nuova opera per evitare guai la chiesa di Roma ha umiliato il genio ecco qua questa è la chiesa dove avvenne la condanna e la recita della Biura se andate a Roma potete vederla tale e quale come l'ha vista Galileo a quel tempo questo è il testo originale della Biura vi leggo solo le ultime righe io Galileo Galilei sopraddetto ho abbiurato giurato promesso e mi sono obbligato come sopra e in fede del vero di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abbiurazione et recitatela di parola in parola in Roma nel convento della Minerva questo di 22 giugno 1633 io Galileo Galilei ho abbiurato come di sopra di man propria ecco quindi capite l'umiliazione di dover abbiurare quindi dire che non è vero che non è vero che il sole è al centro del mondo ma è la terra vittoria della chiesa ecco l'autorità religiosa afferma il suo primato morale i principi universali ed eterni sono estranei all'esperienza e qui c'è un concetto filosofico importante perché la nuova filosofia nascente di Bacone e Cartesio questi due signori qui sotto viene estromessa da ogni valenza etica questa separazione è a tutt'oggi incombente bene l'ultimi anni della sua vita li passa qui nella villa il gioiello agli arresti domiciliari uno direbbe beh insomma tutto sommato mica male come arresti domiciliari sì effettivamente il posto è molto bello però Galileo non poteva ricevere visite e sempre quelle poche con il controllo dell'inquisizione nel 1638 esce finalmente l'opera che è la somma di tutto il pensiero di Galileo questo qui diciamo da un punto di vista scientifico è quello che è il contenuto di tutti i suoi studi la caduta dei gravi i muoti naturali l'idraulica il magnetismo tutto tutto quello che è stato diciamo così l'ottica trattato da Galileo però questo questo questa pubblicazione se voi andate a vedere qui è stata stampata in Leida appresso gli Elzeviri 1638 è stata fatta uscire dall'Italia di nascosto perché non era possibile stamparla in Italia ecco fatto nel 1642 l'8 gennaio muore Galileo si conclude la vita del personaggio che ha segnato l'inizio della scienza come la intendiamo oggi da italiani abbiamo la fortuna di poter ancora oggi leggere le sue opere in originale molto è stato scritto e studiato nei secoli ed è ancora attuale il dibattito e le riflessioni sulla sua opera non tutti concordano sul valore di quanto Galileo Galilei ci ha lasciato da notare che la sorte ha fatto sì che nello stesso anno il 25 dicembre nascesse Isaac Newton quasi come diciamo si può vedere una sorta di continuità da Galileo si passa a Newton e Newton stesso si dirà debitore verso Galileo di tanti concetti che poi lui ha sviluppato bene passano 300 anni quindi Galileo è morto da 300 anni arriviamo al 1942 Pio XII e la biografia di Galileo nel 300esimo anniversario della morte viene ordinata la redazione della biografia di Galileo perché in fondo bisognava mettere a posto sto vergogna della chiesa incaricato è il vescovo Monsignor Paschini già rettore dell'università lateranense al termine dell'opera se ne blocca la pubblicazione e tutto resta in silenzio per 22 anni 1965 Paolo VI ordina la revisione del processo Paolo VI approva finalmente la pubblicazione dell'opera di Paschini e nomina una commissione per la revisione della condanna la commissione se la prende comoda ci ragiona su e lavora per 27 anni 1992 Giovanni Paolo II riabilita Galileo quindi sotto il pontificato di Giovanni Paolo II viene finalmente cancellata la condanna e ci sono voluti 359 anni evidentemente il problema non era l'orbita della terra ci mancherebbe altro c'era ben altro quindi con Galileo emerge il conflitto fra scienza e fede ecco il punto diciamo chiave tuttora accantonato con il compromesso della separazione dei ruoli ma a mio avviso per tanti versi questo conflitto è ancora irrisolto e questo è tutto spero spero siate rimasti insoddisfatti con la voglia di saperne di più bene questo è tutto vi ho raccontato un po' la una storia diciamo condensata delle vicende che hanno interessato Galileo per di lei